C'è chi parla di Meolo, chi di Marcon, chi di Scorzè, chi addirittura di Sandona di Piave. Comuni che potrebbero decidere di abbandonare Venezia, specie con l'istituzione della città metropolitana, per passare felicemente a far parte della provincia di Treviso, che recuperando così i 23 km2 che le mancano per raggiungere la superficie di 2.500 km2, riuscirebbe a sopravvivere al riassetto e al ridimensionamento delle province italiane volute dal governo Monti. Sarebbe dunque una reciproca convenienza salvare Capra e Cavoli, mantenendo in piedi l'ente territoriale sulla cui reale utilità più si discute. Ma per fare questo occorrerà che l'eventuale passaggio da Venezia a Treviso venga certificato dalla volontà popolare, attraverso appositi referendum da tenersi nei comuni interessati alla paventata annessione alla marca trevigiana. L'ultima parola sul riassetto dei confini provinciali spetterà comunque alla Regione, che entro il 24 ottobre dovrà inviare a Roma la nuova mappa del Veneto. Ma per Treviso sicuramente io ho sempre parlato di aree omogenee, economiche, sociali, imprenditoriali. Mantenere per cui anche delle unicità che sono quelle caratteristiche economiche e sociali, Treviso credo che con qualche ammodernamento, con qualche coinvolgimento in qualche altro comune che dall'area della città metropolitana vuole venire al nostro territorio, il quale noi abbraceremo e accetteremo tutti coloro che vengono al nostro territorio, perché riteniamo che se è una volontà popolare è giusto dare il loro conoscimento, Treviso manterrà una sua identità appunto su queste caratteristiche. Come noi abbiamo sempre ribadito, che Belluno deve avere la sua particolarità di montagna perché è un territorio che va gestito in maniera specifica come montagna. Grazie.